Ciao a tutti ragazzi, questo è il secondo episodio della spiegazione di The Extremist partiamo subito da dove eravamo rimasti che è questo pezzo qua il primo solo continua con questo verso qua ok, andiamo sul secondo tasto della quarta corda poi 0, 2, terza corda armonico poi andiamo sulla prima corda, ultimo tasto nel mio caso che è il 22esimo o se no terzo ultimo se ne avete 24 poi sempre prima corda bendiamo sul quindicesimo tasto e facciamo questo fraseggio poi andiamo sul terzo tasto della seconda corda facciamo uno slide sul quinto tasto suonando in ringing anche la prima corda e torniamo indietro e qua facciamo ammeron quarto, secondo, zero sulla terza corda e poi due sulla quarta con un pochino di vibrato e va a chiudere così praticamente dopodiché inizia praticamente il riff del nostro ritornello che fa così e poi andrebbe a ricominciare cromatismo ricordiamoci siamo nella pentatonica di mi minore quindi sulla quinta corda sulla quinta corda uno zero poi questo qua è un lick classico nel rock'n'roll facciamo un bending sulla seconda corda e tre semitoni sotto sulla prima corda invece teniamo giù il tasto quindi andando a suonare entrambe le note facciamo questa dissonanza che viene molto utilizzata nel rock in questo modo e tenendo come nota di riferimento quella sulla prima facciamo nono tasto decimo dodicesimo undicesimo dodicesimo quattordicesimo quindi poi slide sulla seconda corda per arrivare al quinto tasto e suoniamo quinto tasto e zero e poi sempre sul dodicesimo la stessa cosa di prima due volte quindi il completo sarebbe la stessa cosa di prima Grazie per la visione!